Il design della quattroporte nasce dai principi ispiratori di Maserati, armonia delle forme, forte dinamismo delle linee, eleganza tutta italiana. La vettura, molto più generosa nelle dimensioni rispetto alla quattroporte precedente, ha un design esterno leggero e sinuoso che esalta la sportività e il dinamismo insiti nel modello. Abbiamo voluto mantenere alcuni richiami al forte carattere della vettura precedente, la calandra, le tre uscite d'aria sul parafango, il montante triangolare, introducendo nuovi elementi stilistici e funzionali. Mi riferisco per esempio alla linea di fiancata, forte, che prosegue per tutta la vettura garantendo un aspetto che è molto muscoloso e contemporaneamente filante ed elegante. Ha i nuovi proiettori anteriori e posteriori, ha la finestratura a tre luci con porte senza teraino. La quattroporte è una limousine sportiva, dalle alte prestazioni, che ripropone gli stilemi classici della casa del tridente reinterpretandoli con un linguaggio contemporaneo. Il design degli interni della quattroporte ricerca la massima essenzialità, esaltando la pulizia delle linee e la piena funzionalità della strumentazione di bordo. Gli elementi funzionali vengono mimetizzati per lasciare la massima evidenza alle superfici morbide e avvolgenti della plancia del tunnel centrale, che valorizzano la presenza di materiali pregiati, legno e pelle, e la sapiente artigianalità della loro confezione. L'abbinamento di colori classici ed eleganti rendono gli interni della quattroporte un salotto esclusivo ed accogliente per gli occupanti, che ogni cliente può rendere unico con un approccio sartoriale fatto su misura.